Siamo con Nicola Lagrutta, eletto consigliere dei 5 Stelle al Consiglio Comunale di Mazzara del Vallo. Le amministrative 2014 sono finite ed è stato riconfermato il sindaco Nicola Cristaldi. Cosa ne pensi tu di questo risultato? Allora, intanto corre l'obbligo di ringraziare tutta la città, tutti i cittadini. Speravo che ci fosse una maggiore partecipazione a questo momento democratico, al voto solo il 51,5% in buona sostanza votato. Questo risultato è un punto di partenza per il Movimento 5 Stelle. Un punto di partenza è un seme da cui deve crescere una bella pianta. Saremo assolutamente propositivi e naturalmente faremo quello che è il nostro compito, ovvero il compito del consigliere comunale è vigilare, controllare e comunque redigere e proporre anche atti di indirizzo, mozioni. Quindi faremo il nostro dovere e cercheremo di fare la nostra parte per quanto riguarda la governanza della città per ottenere una qualità di vita, per ottenere una città che sia vivibile, assolutamente vivibile, prosperosa per tutti i cittadini, nessuno escluso. Quali saranno le battaglie in Consiglio Comunale cui il Movimento 5 Stelle non rinuncerà mai? Chiaramente le battaglie sono quelle che ci vedono schierate assolutamente con i cittadini. Noi l'abbiamo detto, lo diciamo da tempo, noi siamo assolutamente dipendenti dei cittadini, sono i cittadini che ci hanno assunto e quindi dobbiamo dare a loro risposte. Noi siamo gli eletti del Movimento 5 Stelle, siamo l'interfaccia, il cittadino, qualunque cittadino può venire a fare le sue proposte e naturalmente noi abbiamo l'obbligo e il dovere di discuterle, di approfondirle e poi eventualmente di portarle nelle sedi opportune. Questo è il nostro compito, naturalmente due mandati e via vuol dire che facciamo una sorta di servizio civile, né più né meno, siamo cittadini che si riappropriano delle istituzioni e che nelle istituzioni vogliono lavorare assolutamente per i cittadini. Quindi una grande alleanza, non certo con le altre compagini politiche, ma con i cittadini tutti, da qualunque parte provengano. Quale sarà la prima proposta che farai al nuovo Consiglio Comunale? Allora, la prima proposta sostanzialmente non esiste perché di proposte già ne facciamo da tempo. La prima proposta istituzionale l'abbiamo già fatta, il meetup mi ha chiesto di, come dire, finiti i ringraziamenti, finito il momento dei complimenti e delle congratulazioni, ora è subito utile, importante cominciare a lavorare. C'è stata domenica, durante le votazioni, una giornata di grande caldo e molte persone sono andate al mare, hanno subito constatato che la spiaggia è poco fruibile, c'è affollamento, diciamo la spiaggia quella dedicata ai cittadini, quella pubblica, non è proprio nelle condizioni ottimali. Quindi speriamo che ora, finito il momento elettorale, ci sia subito operatività in tal senso e quindi la prima richiesta è stata questa, cioè di rendere questo spazio fruibile per i grandi, per i piccini immediatamente, procedere immediatamente quindi alla pulizia della spiaggia, alla disinfestazione se è il caso. Quali prospettive dunque per i prossimi cinque anni? Per i prossimi cinque anni, l'ho già detto, saremo assolutamente propositivi. Il Movimento 5 Stelle è da tanto tempo che progetta un grande progetto, una Mazzara 5 Stelle. Il nostro programma è vastissimo, lo tradurremo in atti di indirizzo che presenteremo in Consiglio Comunale, li metteremo sul tavolo delle discussioni, saremo aperti assolutamente a nuove proposte. Le nostre proposte chiaramente le metteremo sul campo e se si riterrà opportuno di accoglierle e renderle fruibili per tutti i cittadini, insomma saremo molto contenti di questo. Detto questo, rinnovo i miei auguri a tutto il Consiglio Comunale, alla giunta che è stata designata dal Sindaco Cristaldi, le mie congratulazioni al Sindaco Cristaldi, però ora c'è da sbracciarsi le maniche e da lavorare. C'è tanto lavoro da fare, tantissimo. In Consiglio Comunale pensi di unirti al coro degli altri componenti dell'opposizione oppure resterai indipendente seguendo una tua linea? Questa è una domanda che mi fanno tutti, ma la risposta è insita in quello che è il Movimento 5 Stelle. Noi non saremo né maggioranza né opposizione, ripeto, noi saremo assolutamente alleati dei cittadini, abbiamo le mani assolutamente sciolte, quindi non siamo legati a nessuna lobby, a nessuna ideologia, ma siamo assolutamente post-ideologici, il che vuol dire che valuteremo proposta per proposta, valuteremo situazione per situazione, entreremo nel merito, la discuteremo con molta limpidezza, porteremo il tutto a conoscenza dei cittadini, dopodiché ci sarà il nostro voto positivo o negativo a seconda di quello che verrà deciso insieme a tutti i cittadini. Quindi, come si dice, equidistante e distinto sia da maggioranza sia dall'opposizione, ma di volta in volta nel merito delle discussioni con assoluta competenza, nel senso che, chiaramente, io sono disponibilissimo a tutti coloro i quali vorranno suggerirci, vorranno darci dei consigli, ma non solo, a tutti i cittadini, a tutte le classi sociali. Questo, l'obiettivo principale è riuscire a creare una democrazia, riuscire a far dialogare le istituzioni con tutta la cittadinanza. Siamo molto legati al concetto di democrazia partecipata. Una democrazia partecipata è fatta di informazione molto aderente ai fatti e che vuol dire che la stampa e i media sono un punto di partenza, un punto di partenza da cui appunto apprendere l'informazione e poi andarla ad approfondire nei testi, in quello che effettivamente si produce, perché le azioni della politica, le azioni dell'amministrazione si qualificano appunto per ciò che c'è scritto, non per ciò che si dice. Ecco perché invito tutti a prendere anche le mie parole come punto di partenza e da queste poi entrare nel merito di ogni discussione che avverrà in Consiglio Comunale, in Giunta. Insomma, cerchiamo di diventare tutti partecipi della vita politico-amministrativa di questo Paese, perché se facciamo questa cosa diventeremo una buona comunità che si prende cura di se stessa, dal più ricco al meno ricco, dal più svantaggiato al più, in questo momento, più prosperoso. Però ci sono da colmare tanti gheppe in questa città. Questa città ha bisogno di, parafrasando, di diventare una capitale, ma in realtà ha bisogno di una qualità di vita migliore per tutti. Abbiamo tante risorse, abbiamo il vento, abbiamo il sole, abbiamo il mare, abbiamo tutto ciò che molti ci invidiano e non siamo riusciti ancora a farlo ben fruttare. Forse è il momento che la città prenda consapevolezza e coscienza di queste risorse di cui dispone e cominciamo a farle fruttare per il bene di tutti, indistintamente. Non dobbiamo dividerci, anzi dobbiamo unirci e dobbiamo cercare di trovare la soluzione per far sì che i nostri figli, perché alla fine di questo li trattano, noi questa città l'abbiamo in prestito e dobbiamo donarla, dobbiamo lasciarla in note ai nostri figli. Ultimamente negli ultimi 20-30 anni, da quando io ho coscienza e consapevolezza di quello che mi accade intorno, abbiamo vissuto una continua emorragia di intelletti, di giovani che una volta finito il corso di studi vanno via. Sarebbe bello trovare la soluzione per investire e far rimanere queste risorse qui nel territorio e fare una Mazzara 5 Stelle.